Musica Ben ritrovati con il Tg Venezia di Caffè TV 24. Apriamo l'edizione di oggi facendo il punto sulla campagna vaccinale anti-Covid. Iniziata formalmente in tutta Europa il 27 dicembre dello scorso anno, con la somministrazione di 880 dosi, la campagna di fatto si è attivata solo alla consegna delle prime forniture di vaccino, ovvero tre giorni dopo il 30 dicembre. Stando agli ultimi dati, in Veneto sono state somministrate oltre un milione di dosi, 33.545 solo nella giornata di ieri. Ad aver completato il ciclo di vaccinazione invece sono stati in 300.047. Il problema per quanto riguarda i vaccini sono i ritardi nell'arrivo dei rifornimenti. Nel territorio di competenza dell'US4, l'87% degli oltreottantenni ha già ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid e al 29% di questi è stata somministrata anche la seconda. In parallelo continuano anche le vaccinazioni alla fascia tra i 70 e i 79 anni, con una copertura del 39%, e a quella dedicata a soggetti disabili e vulnerabili. Ad intervenire al riguardo è Mauro Filippi, direttore socio-sanitario dell'US4 del Veneto orientale. Ormai sul piano delle vaccinazioni la ULS è a regime. Ieri, anche con la collaborazione dei medici di base, abbiamo somministrato 2.158 dosi. Spiega Filippi, che però aggiunge, saremo costretti a rallentare perché le forniture saranno in contrazione e non potremo più garantire questi livelli. I ritardi si registrano soprattutto per i rifornimenti delle dosi di AstraZeneca. Ne sono attesi 600 la prossima settimana e 1.900 quella successiva. A differenza di quelle della Pfizer, che finora sono arrivate con una certa regolarità all'US4 per un totale di circa 4.600 dosi. Ormai si può dire che Covid e crisi nell'ultimo anno abbiano fatto coppia fissa a fare il quadro della situazione economica e occupazionale delle micro, piccole e medie industrie del territorio veneziano nel 2020, ma anche dello stato di credito e degli investimenti con FAPI Venezia e Banca d'Italia. Stando ai dati raccolti nel settore dell'edilizia, si è registrata una forte crescita grazie al super bonus 110%, nonostante siano state riscontrate le difficoltà nel reperimento delle materie prime. Per quanto riguarda la moda e il settore tessile, invece, si registra una perdita del 40%, strettamente legata alla chiusura dei negozi e all'influenza della riduzione drastica delle occasioni di socialità. La cantieristica anamale, che la scorsa primavera aveva visto un forte rallentamento, è riuscita a riprendersi egregiamente nei mesi successivi. Per quanto riguarda il settore alimentare, sia volumi che fatturati, hanno visto una forte crescita a favore dei consumi di massa. Drastico calo, invece, per la produzione artigianale e di nicchia. Completamente in ginocchio il turismo, con un meno 90% a Venezia e un meno 45% nel litorale. Le molte incertezze su come verrà gestita la prossima stagione estiva sono un fattore che sta determinando una scarsa propensione alle prenotazioni negli alberghi, soprattutto da parte dei turisti esteri. Il provvedimento governativo del blocco dei licenziamenti non è stato particolarmente influente per le aziende iscritte a Confapi. I casi, infatti, sono ridotti ed è stato possibile gestirli con la casa integrazione, anche a rotazione. Il problema, semmai, è l'inverso, ha commentato il direttore Nicola Zanon, in quanto il mercato del lavoro sta evidenziando, ancora una volta, il divario tra la domanda e l'offerta, con certe mansioni che sono diventate vera e propria merce l'ara, ovvero saldatori, carpentieri, autisti, addetti edili, piccoli artigiani, ma anche operatori sanitari. Il presidente di Confapi Venezia, Marco Zecchinella, ha poi aggiunto il confronto con Banca d'Italia ci rafforza, consentendo di relazionarci con esperti dell'analisi del mondo del credito, ma anche con le dinamiche legate al lavoro e all'occupazione. Per la nostra associazione è un'ulteriore occasione di crescita e ci aiuta a monitorare la situazione contingente locale, al fine di non lasciare soli e senza sostegno gli imprenditori e le imprese che rappresentiamo, fornendo invece loro concrete e tempestive soluzioni. Veniamo ora all'ultima notizia di oggi. Al momento si trova all'ospedale dell'Angelo, in prognosi riservata, con un trauma cranico e diverse fratture. SR 83N di Favaro Veneto è stato investito alle 17.30 di ieri, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali via Altinia. Non è ancora stato appurato se al momento dell'incidente l'anziano fosse in bicicletta o la stesse conducendo a mano. Dalle prime ricostruzioni si ipotizza che si è sbucato all'improvviso sulla carreggiata senza dare il tempo all'autista di accorgersene per frenare. Nell'impatto, l'83N è finito sul cofono e contro il parabrezza dell'auto. Le persone che avevano assistito alla scena hanno immediatamente chiamato i soccorsi che sono arrivati poco dopo. I sanitari hanno preso in cura sia il ciclista che l'automobilista, un 72N, colto da un leggero malore in seguito all'incidente. Sul posto anche le pattuglie del reparto motorizzato della polizia locale, diretto dal commissario Luca Meneghini, che hanno eseguito gli accertamenti del caso e sentito le testimonianze dei presenti. Nei confronti dell'automobilista è stato aperto un fascicolo per lesioni stradali. E anche per oggi è tutto, vi lascio ora alla nostra rubrica musicale Fame Flash e vi auguro una buona visione. Ciao, sono Francesco, vi parlo direttamente dalla regia di Radio Arcella. È una Radio Arcella, una web radio, che è partita da una settimana e con una programmazione musicale. Per ora abbiamo proposto la nostra playlist, ma ci siamo riservati di raccogliere anche dal pubblico, dagli ascoltatori, delle proposte musicali che verranno mandate in onda domenica. Abbiamo inoltre, nel corso di questa prima settimana, ricevuto numerose proposte di collaborazione, grazie ai contatti sul nostro sito. Quindi in queste prossime settimane li conosceremo e partiremo anche con loro. Oltre alla programmazione musicale, proporremo anche podcast che tratteranno varie tematiche. Colgo l'occasione per invitare qualsiasi artista o qualsiasi persona che abbia voglia di mettersi in gioco, di far conoscere le proprie conoscenze, le proprie, mi sento dire, passioni. Noi vogliamo essere anche una sorta di ponte per valorizzare gli artisti che ci sono nel nostro territorio, non solo all'Arcella e Pado, ma chiunque condivida il nostro ideale di valorizzare l'Arte. Le varie tematiche che tratteremo e di cui proporremo anche vari lavori, tra cui podcast e trasmissioni, sono il verde e la natura, intesa come l'amore per l'ambiente, l'attenzione che si ha verso l'ambiente, sport e benessere, musica, che è quello che ci deve un po' contraddistinguere, essendo una web radio, arte, arte intesa come pittura, letteratura, poesia, teatro, cinema, danza. Oltre a questo bellissimo intro, tratteremo anche delle tematiche un po' più importanti, un po' più, a mio parere e a nostro parere, da sensibilizzare come la violenza di genere e altri tipi di questioni molto delicate. Quindi Radio Cera non si propone solamente di accogliere l'arte, ma nello specifico vuole anche sensibilizzare un sacco di persone e un sacco di realtà. Grazie a tutti.